Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Di nuovo qui finalmente Allora, devo fare tutte quelle cose che avevo detto preannunciato nello scorso episodio Praticamente fare il query plus Sapete perché voglio fare il query plus ragazzi? Semplicemente perché è plus No vabbè scherzo Voglio farlo perché non è monouso Semplicemente E devo fare un bel po' di query per fare tutto ciò E mi serve parecchi piccoli diamante Ne faccio, quanti query faccio? Uno, due, faccio due query plus Ma si Quattro query, vai madonna sono pazzo Pazzo criminale, query plus Eh no, query Query plus si fa col query Oh, query plus si fa col query, si fa shift Eh te pareva che non andava Non mi ricordo, le sai, era tipo così Era tipo così O così, così, così Sì, query, a posto Uno, due, tre E quattro Perfetto ragazzi Quattro query Li andiamo subito a mettere dentro la nostra assembly table E però devo aggiungere ciò che mancava la scorsa volta Cioè praticamente Un po' di roba Tipo Diamante qui ancora sta lavorando Ma no ragazzi Quanto cazzo di tempo ci vuole per fare sto diamante? Really? Ma se tipo collego altri laser? Se tipo craft o altri laser li collego Faccio un'altra parete di laser Come la vedete? Io la vedo bene Non so voi Ma io la vedo proprio bene Eh però li metto Cazzo li metto Un po' Sono un po' bloccato da sta parete Se li metto Se sposto l'assemblitevo di un quadretto più in là Oh questa è un'idea Questa è un'idea Assemblitevo lì qui Ok E i laser li metto di là Li metto di là i laser ragazzi Vediamo questa torcia Ecco Finiti i cavi Te pareva Te pareva Te pareva Dammi sta chest Dammo Ok Allora ragazzi Rimettiamo la nostra chest qui Sì doppia no? Non mi interessa Ok singola E metto dentro Questi diamo chipset Che mi sono avanzati Più altri diamanti Redstone Altri enderpearl No vabbè allora Una enderpearl Facciamo questo Poi Un diamante Facciamo questo Quanto ce ne vuole per query plus? Non mi ricordo No questo è per query plus Sì Io ne ho Sette Quindi me ne servono altri otto in più Sette Otto Ok E poi mi serve Altro Un colorante Due coloranti Se non sbaglio Mi sbaglio sempre Otto Sedici Sì Due di ferro Ok abbiamo anche questi E poi ci serve Nient'altro Le query E le chest Manca una chest No ragazzi Una chest fail La crafting L'autocraft L'autocraft Chest Manca una chest 32 chest Per fare un query Per questo Ok Tutta roba vanilla ovviamente ragazzi Perché query plus è vanilla Dov'è la chest? Su Sali legno Ok legno sale Si scompone Diventa legnetti E scende giù la chest In teoria Chest Chest E qui chest Presa Ok ragazzi Mettiamo una chest Nella crafting E lasciamo craftare A questo punto Perché non manca altro Aspetta prima prendiamo I diamond No Sarà messa a fa quello end Sarà messa a fa quello diamond Porca Vabbè ragazzi Oltre al query plus Oltre al query plus Ci serve la pump plus Sì anche la pompa Ci serve ragazzi Ci serve tutto Dobbiamo proprio Lavorare seriamente Dobbiamo fare cose serie Quindi ci vuole un po' di pazienza Con questi craft Ma alla fine viene una cosa Figherrima Fighissima E ho finito i cavi Della thermal È possibile? No aspetta Parliamone Ho finito i cavi Della thermal Really? Cioè aspetta Qui non c'è niente? No Sono rimasto di merda ragazzi Ho finito tutto Anche il vetrino Tutto No ma che dici? Non ci credo Quartz vieni qui Fuse su Quartz Devi fare il vetrino tu No ho finito tutto raga Non se stiamo a regolare qui Ah però ci vuoi capitare in P Li riempio Li riempio Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ok intanto vado a craftare altri laser Me ne servono altri 6 Quindi prendo un po' di diamante Un po' di redstone Un po' di ossidiana 6 ho detto eh Quindi andiamo sul laser plus Sul laser 1 2 Si guarda quanti mi potrei fare 35 Laser Eh ragazzi ci serviranno per il laser plus Guardate Si fa con 16 laser il laser plus 1 Con 16 Senza parole proprio Il vantaggio che hanno questi macchinari plus ragazzi E' anche che possono essere enchantati Eh già Ovviamente hanno bisogno di un loro enchanter particolare Che toglie enchant dai picconi di diamante Sì una cosa un po' particolare Che poi vi spiegherò Vabbè non sto a spiegarlo ora Perché è tipo troppo lungo Non lo sto per fare Lo farò più avanti Ok ragazzi Laser al massimo potenza Guardate come viaggiano Mamma mia Oh ora si crafta come si deve Sapete adesso prendo questi 8 chipset E faccio subito un query plus Guardate eh Prendo 8 Metto all'interno Guardate Non esce un cazzo Perché 8 16 32 Mancano i 16 cavetti gialli 8 Ah che sta facendo adesso 24 Perfetto Ecco ragazzi il query plus Lo posso selezionare Ragazzi Vedete Mi sono dimenticato di spiegare questa cosa Che è un po' importante Un po' meno L'avete visto nel video scorso che l'ho fatto Tu cliccando un oggetto Lo selezioni Vedete Il craft lo inizia Solo nel momento in cui lo selezioni In questo modo Vedete Selezionandolo parte Deselezionandolo smette Solo in questo modo potete avviare un craft Dopo questo ovviamente mi serve un query plus Cavetti li metto a posto Ragazzi L'unica cosa che mi manca Sono 8 di questi chipset Che richiedono un bel po' di energia Se andate Se voi premete Guardate R Sul macchinario E premete sul redstone Diamo il chipset Dice quanta energia serve Servono 80.000 megajoule Cioè sarebbero 800.000 RF Quindi un'energia enorme Questo cosa ancora non mi dà l'energia Non capisco perché Vabbè Intanto le batterie da 50 milioni Sono piene E sicuramente ne riempirò molte altre Ragazzi Se non state procurarvi di questo Quindi Tutti questi engine Non servono più a niente Niente Tutti inutili Io dovrei smontare tutto L'acqua non mi serve più Per questi macchinari Cioè tutto Tutto il mondo di Minecraft Per me adesso è cambiato Mi si è aperto un mondo diverso Dal solito Cioè tutto questo Pianto fatto così Non serve più a niente Ovviamente questi tubi Li lascio per collegare Le farm di alberi Però dovrò spostarle Perché lì non servono più a niente Devo ristrutturare tutta casa Ragazzi Quindi smonterò le farm di alberi fuori Smonterò tutto Tutto Change ragazzi Il mondo cambia Comincio a staccare questa E faccio ragazzi Ripartire la farm di alberi Al volo Perché gli faccio tagliare Tutti gli alberi Per non sprecarli ovviamente E poi la smonto La smonto tutta completamente Adesso ok Faccio così L'ho collegata al volo Dovrebbe passare una valanga Di energia Guardate quanta La farm di alberi Adesso farà uno spawnazzo Al massimo potenza Brucerà tutti gli alberi Che trova E poi finirà gli alberi Ragazzi e la smonto Vedete ragazzi Sta tagliando al volo Ragazzi Io metto un pausa Fino a quando non ha finito Di tagliare Fino a quando non ha Completato i query plus E ci vediamo dopo E dove avrò già smontato La farm di alberi Ragazzi Che ovviamente è una cosa Molto banale Sinceramente non mi vado A registrarla Ha cominciato a craftare Il query plus Mi sa ragazzi Guardate quanto ci mette Quanto serve il query plus 800.000 mega jou Vuol dire 80 milioni di rf Ragazzi E per noi non è un problema Andato noi ce l'abbiamo energia Abbiamo il nostro Fulmination generator Con 10 terra jou A blocco E non riesco a far vedere Quanta energia c'è ragazzi Mi spiace Cercherò di risolvere In qualche modo Non so Forse con riavvio del server Non ne ho idea Guardate giuro Vabbè ragazzi A tra pochissimo Raga Raga Ho un query plus Oh mio dio Quanto è figo Ho un query plus Ho un query plus Ho un query plus Allora ragazzi E ho ripreso a registrare Perché sinceramente Non volevo farla Sembrare una givvada Perché tipo sto per fare Una valanga di celle Ma non tante De più L'unica cosa è che Aspetta Non ho visto come si fanno Le torcette del query plus Ah Ah porcaccia Ah la faccia Devo fare queste ragazzi Me ne servono anche 4 Anche 8 anzi Redstone golden chipset E diamo un chipset Quindi 4 per 4 16 Fili di diamanti Ah no Eccoli qua Eccoli qua Eccoli qua Allora devo farne Quindi Ho detto 16 Quindi 32 Porcaccia ragazzi 32 Tanta roba 32 32 Tanta redstone Mi serve Tantissima redstone E dicevo Ho ripreso a registrare Perché volevo farvi vedere I kraut Delle batterie Della termo ragazzi Perché ne sto per fare Una valanga Sembra una givvada Capito No Sinceramente non mi andava Di farlo off camera Cioè non Cioè magari può essere Stupida o noiosa Come cosa Ma devo farlo ragazzi Perché alla fine Poi uno dice Che faccio Givevi le batterie Cazzo Quarta quante ne sto per fare Cioè Cioè sto per farne uno stack Uno stack di batterie Blu della termo Cioè Cioè veramente Stiamo scherziamo Stanno le celle vuote Qui 14 celle vuote Ragazzi E ne sto per fare Molte 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 altre Come far morire Un server Dandomi energia infinita Non ci hanno capito Un cazzo Questi dei mod Niente proprio E l'enderium blend Ce l'ho ancora Eh si Dovevo fare Altri l'enderium blend Ragazzi Porca Oh mannaggia Un sacco di pirotero Questo me lo tengo da parte Quello lo lascio Nell'inductio smelter Perché servirà Ok E qui Vabbè Polverizzare Un sacco di cose Ragazzi E che dire Aspettiamo Aspettiamo questi craft Dell'assembly table Se notate Ho già il planter Nell'inventario Perché ho smontato Il plantamento degli alberi Così almeno Smette di plantare E taglia tutto quello che cresce Anzi Direi che Potrei anche andarla Direttamente a smontare Certo a staccarsi Tutti i sapling a mano Che palle Ehm Quello che devo fare ragazzi È l'osmium E l'osmium ragazzi Si fa all'interno Dell'assembly table Però Con quel cavolo di uranio E sinceramente Ho paura di morire Chi cazzo Ho paura di morire Con l'uranio Quindi questa roba Io la poso tutta qui Per ora E adesso proviamo Questo uranio ragazzi Mi serve il pirotero Che fa sto scheletro Vieni qui O continua lì a camperare E mi guarda Ah sta arrivando Ok Dai muovi il culo cazzo Dai che devo fare il pirotero Cazzo tubito Scheletro di merda Per ammazzarlo Guarda spacco tutta casa Guarda Non mi sfascia tutta casa Guarda spacco pure il tank Davvero Ok Dov'è il blocchetto? Metti a posto Ok Ragazzi Non direi che insistete A mettere le porte Perché so cocciuto come muro So degno Le porte non le metto So stronzo Allora Dicevo Uranio Ok ragazzi Devo unire l'uranio Col pirotero Aspetta aspetta Allora Una cosa Ragioni Con calma Pensiamoci bene E una volta che lo prendo in mano Schiatto Quindi devo fare la recipe al volo Ok con l'enderium blend No Devo fare l'enderium blend Davvero Eh ragazzi Niente Dobbiamo aspettare Che si riempiano tutte queste celle Ragazzi Ancora così sta Mamma mia Mamma mia ragazzi Quante cose sto facendo La mia casa sta esplodendo di macchinari Veramente 3, 4, 5 Quindi mi servono 1, 2 Stack di enderpearl Tanti altri stack di enderpearl Metti enderpearl Qui Metti enderpearl E ci metto dell'oro Per duplicarle Oro Qui Perfetto Dovrebbe partire il macchinario Che le importa Sei partito Beh ho visto Si si le sta importando Guarda Dietro ci avevo messo un motore Che succhiava enderpearl Non le succhia più E' in vacanza E' in vacanza il motore che succhia Ragazzi Andiamo a vedere il motore dietro Che sta facendo Adesso scapoccio Guarda Guarda I macchinari che non vanno Come Oh mio dio Hai saltato tutto Ok ragazzi Non mettete il fumination generator Dentro casa Logistic chassis MK2 Spam Esagerato Oh mio dio ragazzi Ho fatto i danni Logistic chassis MK2 E anche le logistic pipe A sto punto Mi servono Perché non bastano Quante ne ho Solo 28 MK3 Faccio uguale Cambia niente Basta che li faccio Hanno un bel po' di stack di ferro Oddio ragazzi Ho fatto veramente I danni Dov'è la La bullcraft Quante pipe Diamo Cazzo Raga Ho distrutto tutto Sono un demente Sono un puro demente Vabbè ragazzi Ci vediamo Fra un po' Che io mi graffto queste cose O che devo dirvi Devo rifare tutto praticamente E qua era il basic logistic Era il diamond Cobblestone Vetro e torce Cobblestone ce le ho Uno stack di vetro Stack di torce Faccio al volo Ce l'ho le stick Sì Stack di torce Dio ragazzi Ho fatto veramente i danni Non pensavo Non credevo Rimesso di merda Serve gold gear Uno stack di gold gear C'è una 28 Più 52 Faccio subito 1 2 3 Che cazzo di Wow Che cazzo di wow Ragazzi 1 2 3 4 Ok Uno stack di tutto Dovrei fare Una valanga Di logistic pipe In teoria Non va Perché Questa era Ok Ok Ho esagerato Ma le userò tutte Ragazzi Non mi interessa E non pensavo Di arrivare a tal punto Posa tutto sto ferro Ma porca paletta Ragazzi ci vediamo fra poco Io mi riassemblo tutta casa Almeno prova a riassemblarla Faccio quello che posso Almeno Porca paletta Logistic pipe Ferro Logistic chassis Mk3 Mk3 Craft Ragazzi ci vediamo fra un po' Ragazzi Sistema Ok ragazzi Ho dato una bella sistemata Ovviamente non ho Sistemato tutto Ancora non ho messo i mod Based che sinceramente Non mi andava di craftare Anche quelli ragazzi Ma porca sto fulmination Merda generator Vabbè ormai C'ho fatto l'esplosione All'interno Finchè non consumo Tutta l'energia Che trattiene Non posso smontarlo Ma porcaccia Non ci posso credere Averete conto Assurdo Ma smonta Tutta casa Io non mi sono accorto Di niente Ma porca Vabbè Mi sono completamente Dimenticato Quello che stavo facendo Prima Ma proprio Completamente No o poco Ma completamente Completamente Allora intanto Mettiamo a posto Tutta questa roba Che è un casino Che cavolo stavo facendo Ah sì Stavo facendo l'osmium Che rinco E mi servivano Le erium Le blend Aspetta Le posso rifare da questi Le ripolverizzo Oh posso polverizzarli Aspetta Torniamo dietro Retrofront No non è vero Facciamo altre ragazzi Allora Tutte le enderperle Stanno uscendo Dalle muli puletti Me ne servono 4, 5, 6, 7, 8 Prendo 8 Così almeno Facciamo tantissimo Enderium In secchio Insomma avete capito Qui perché non va Perché manca 4 redstone 1, 2, 3, 4 Perfetto Quanti è enderperle Lol Lol Quanti è enderperle Ok Allora Qui sta riempiendo L'ultima cella Quelle altre Me li prendo Quindi ne lascio solo una 4, 2, 1 E poi dentro Ci butto i secchi Un'altra volta Non ho messo i secchi Al piano di sopra Da qualche parte Secchielli Secchielli Venite a me Secchielli Secchielli Eccolo qua Dio ragazzi Quante celle Di batterie piene Cioè è assurdo Non so più cosa fare Tutto uno spam Devastante Ah devo ripolverizzare Tin Vabbè ragazzi Mi crafto Anderium Blade In aspettanza Ok Allora Per craftare Se viva Tutto polverizzare Tin Poi lo scine Metal Poi si comincia Dario Dario Anderium Anderium Mamma mia Quante ne devo fare Fitto dopo domani Ragazzi Non glielo faccio prima C'era tipo il tastino Shift No Era Alt Era Desk No Era Ctrl Shift No Era C'era un tastino Per inserire il coso Direttamente dentro La craft Non mi ricordo Vabbè Io ho detto Così Ah io me lo ricordo Che c'era No Non c'è più Ah era Shift W No W W W W W W W Ragazzi No Sì W W E Clic Ragazzi Shift W E click E ve lo metti direttamente nella crafting Adesso mi si risparmia tempo Ci ho messo molto di meno Ok Le mettiamo a unire col piroterum Facciamo tutte le nostre link No Non le devo unire col piroterum Mi serve grezzo Già stavo sbagliando Già stavo sbagliando ragazzi Te dico Fermate Eh ma io ho preso 16 secchi Perché adesso me ne sono avanzati solo 15 Tu dove vai girando Scusami eh No ma tanto per Giusto per capire no Prende gira Ti fai i giretti su Ma ma tranquillo eh Ok Allora Guardate quanto polverizzato Oh tantissimo polverizzato Sono uomo polvere Pieno di polveri Allora Oddio quanti ne devo fare ancora Viene da piangere solo a pensarci Beh ragazzi io continuo a craftare Anzi se cominciassi a fare tipo un po' di osmium Adesso mi irradierò e morirò Aspettare Allora prima finisco di craftare questi Ah troppo Sto duplicando un po' di diamantini ragazzi Ma giusto un pochetto eh No me ne servirò un po' ragazzi Dobbiamo fare questa recipe Su Morirò irradiato eh Ok cazzo è arrivato uno stack Però Almeno qualcosa Concludo Allora diviso 4 Quindi ne userò solo 16 diamanti Se non sbaglio Perché è 4 Sì Ok ok Sono pronto raga vado eh Mi irradierò tutto eh Morirò ma pazienza Poi la tuta me la farò più avanti Perché adesso mi serve solo osmium malpolo Vado eh Uranium Aspettate prima che scrivo osmium Non so se muoro di radiazioni Non lo so ragazzi Sto provando ora per la prima volta Quindi non chiedete Io provo tutto con voi ragazzi Non ho idea di cosa potrebbe succedere Uranium 235 Sì Ok E' questo E' questo quello che mi serve Con il diamante al centro E le blend intorno Vado eh Ah le blend sono uno stack però mi serve Sì non due stack Ecco uno Ok l'altro me lo tengo da parte Potrebbe servire Allora Vado eh Uranium Via Ecco irradiato Sono irradiato Sono irradiato Sono irradiato Aia Aia Solo 16 Cazzo 24 secondi di radiazione Chissà se resisto ragazzi Ok ragazzi posso fare l'osmium Ragazzi ho l'osmium Mamma mia Fomentitissimo Mamma mia Ragazzi guardate Allora l'altro query plus I marker plus Ragazzi quanta roba Devo uscire da s'assembly table Io so tentato di fare un'altra parete di laser lì Sapete? Non sapete che sono proprio Non tentato Anzi ora la faccio Devo fare una parete di laser Sì però Pensavo di morire Più velocemente le radiazioni Fanno poco danno ragazzi Sapete che adesso aumenterò il Il danno vero Config Dove siete? Troppo poco danno ragazzi Si deve morire di radiazioni Non va bene che uno sopravvivi Proprio non c'ho niente addosso Sono un uomo nudo Prendo in mano dell'uranio E sopravvivo Che so Porca Ma che cazzo Di fail Fake è Ok Tutta questa carbonella Perché sta esplodendo qui all'interno? Ah perché giustamente Siccome mi sono esplose tutte le pipe sotto Non c'è più il filtro Che dice Manda la carbonella a diventare super condensed Giustamente Ed era in quale chest? Questa Ok Metto super condensed Via Adesso dovrebbe arrivare Tipo uno spam assurdo di carbonella Arriveranno 20 Guardate Eccola Chiamata proprio Proprio a blocchi ragazzi Guardate come crafta assurdamente questo macchinario Vedete che assurdo che Dio lo amo questi macchinari GG ragazzi Vabbè Ragazzi Io vi faccio questa Parete di laser Abbiamo il nostro Osmium Nucle Raw Osmium Scusate Della Mod X ragazzi Perché l'ho fatta io Della Mod X E Il nostro Raw Osmium nel laser Ci danno l'Osmium Or E quindi alla fine Potremo fare i nostri macchinari Della meccanismo ragazzi Possiamo quadruplicare Quintuplicare i materiali Ovviamente quello sarà un po' più avanzato Sarà un po' più difficile Considerate per quadruplicare i materiali Già devo fare Quattro pannelli solari Io sopra ne ho due Me ne servono altri due Poi li faccio con calma ragazzi Vabbè ragazzi Anzi Li faccio subito smontare Tanto energia ormai in casa Non mi serve più Ragazzi Smonto i pannelli solari Comincio Ristrutturo tutta casa Ci vediamo nel prossimo video Che magari avrete visto Troverete qualche cambiamento Di brutto anche Intanto vado a smontare quei cosi Oddio ragazzi Ci sono andato proprio vicino Oddio Comincio a avere paura Per casa ragazzi Ci sono andato Cazzo vicino Buonissimo Oh porcaccia Ok che dell'end ti voglio bene Grazie Dammi tutto l'endstone Però Porca paletta Ha fatto un macello Casino Esploso tutto Ragazzi Io ti devo dire Al prossimo video Ci vediamo Io un tanto sistemo Mi vede pianto Non so che dire Porca porca Cioè pensate Se mi cade sopra a casa Assurdo Vabbè ragazzi A stasera A domani A quello che sia Ciao a tutti